Oltre ogni più rossi a previsione, nonostante le mille difficoltà e gran parte della stagione è vissuta praticamente in trasferta a causa dell'indisponibilità dello stadio. Al tempo stesso però nessun limite alla splendida avventura della Soccer Training nel campionato di promozione. All'orizzonte c'è ora la semifinale play-off, ma resta ancora tanta la soddisfazione per il quarto posto ottenuto nel girone A, al termine della regular season. Sicuramente è un risultato importante per tutta la società, quindi devo fare un plauso all'organizzazione, a chi lavora dietro le quinte, a tutti i miei ragazzi, noi facciamo tanti sacrifici da metà agosto, quindi questo è un premio e anche come atteggiamento dovrei essere bravo anche a non far pesare troppo ai ragazzi la semifinale play-off di domenica, per noi è un premio, ce lo dobbiamo godere con la giusta attenzione, poi come hai detto tu vale doppio perché abbiamo ottenuto metà campionato, l'abbiamo disputato fuori casa, quindi questo è un premio che vale doppio per tutti. Sicuramente significa aver fatto un passo verso il primo vero obiettivo che ci siamo posti nel momento in cui abbiamo deciso di far seguire al progetto del settore giovanile la prima squadra, quello di poter ridare credibilità a questa città, a questa piazza a livello sportivo e credo che nell'arco di questa stagione molta gente si sia avvicinata perché ha visto in noi la passione, ha visto in noi la serietà e le competenze per poter creare qualcosa di bello per tutti. Fine di un capitolo, sta per partire un'altra storia che nelle intenzioni dei tesserati della Soccer deve portare alla disputa di due partite. La prima, valida per la semifinale play-off, è in programma domenica in trasferta contro il Lucera, fischio d'inizio, previsto alle ore 16.30. Ora si azzera tutto, quello che abbiamo fatto vale zero, quindi ci sono due partite, spero, importanti dove conterà molto l'aspetto mentale. I ragazzi stanno bene, si allenano bene, sono abbastanza tranquillo sotto questo punto di vista, però dobbiamo essere bravi a gestire soprattutto le emozioni in vista di domenica, quindi dobbiamo stare tranquilli. Domenica ci apprestiamo a giocare la partita più importante della storia di questa società, anche se l'ho già detto prima della partita del Capurso, però anche questo credo sia sinonimo di crescita e quindi dobbiamo iniziare ad abituarci a giocare partite importanti, quella di domenica lo sarà, quindi il mio invito è rivolto a tutta la cittadinanza di seguirci perché abbiamo bisogno di tutti. Niente calcoli, niente limiti, dopo aver fatto cose eccellenti negli ultimi anni a livello di scuola calcio e di settore giovanile, la Soccer Trani vuole continuare a stupire anche nel mondo dei grandi. Per accedere alla finale contro il Capurso però esiste un solo risultato contro il Lucera, la vittoria in 90 o in 120 minuti. Il Lucera è un po' come noi, la squadra più simile di quelle delle prime quattro a noi, solo che loro sono davanti come percorso di crescita, sono due anni che stanno insieme, hanno programmato la stagione per vincere il campionato e sicuramente avranno accusato un po' il colpo per non averlo vinto perché a 20 minuti dalla fine erano in eccellenza. Quindi temere è una parola grossa, grande rispetto perché sono un esempio anche per noi, come gestiscono, però penso che anche loro non saranno contenti di incontrare la Soccer.